Oh, finalmente due giochi di qualità, uno di fianco all'altro, i giochi più giocati di questa settimana. Non ho dubbi, saranno una cagata? È vocale! Strano cesso, il gioco si chiama strano cesso, va bene. PC Masterrace, su cosa hai giocato oggi? Strano cesso. Iniziamo bene. Ah, dopo una violenta cagata che mi ha liberato le viscere, sono pronto. Ok, sono pulito, fresco, come una... Non vuoi più vederlo. Cosa, il mio faccino? Sono così brutto! Ok. Eh, dovevo cagare, esatto. Scusa. Eh, io sono te. Eh, mamma mia. Mi fai passare la voglia di cagare. Mi fai passare la voglia di cagare ogni volta che rompi. Arriva quello di Squiddy di Game qua. Eh, Uber News. Cioè, ragazzi, sto... Ma andate avanti, non ha nulla a che fare. Non ha a che fare con il cessi sto notiziaro. Io volevo un notiziaro che avesse a che fare con i cessi. Il gioco ha a che fare con i cessi. Cos'è sto notiziaro che non ha senso? Ok, enough. Sì, basta di sta schifezza. Sì, è un tipo di idiot in a maschio che non può dire una singola frase senza stoddare. È tardi. Sì, andrò a prendere un uomo. Ok. Vabbè, questo gioco è veramente tipo una boiata unica. Ma voglio andare fino in fondo delle tubature. Oh, il campanello. Il campanello. È sempre andato a prendere le tue a queste ore. Ok. Stranamente, subito dopo aver visto il notiziario, iniziano a succedere le cose non cagare più. Oh no. Come farò, ragazzi? Cioè, prima o poi dovrò cagare. Cagare è un bisogno naturale, fisiologico. Tu non puoi chiedermi una cosa impossibile. È come dire, un cerchio diventa un quadrato. Io non posso. Devo nascondere questa lettera a mia moglie. Te lo sto solo dicendo. Perché non devo cagare? Perché è pericoloso. Giustamente, il killer dei cessi potrebbe essere un problema. Ok. Ah, ci sono dei rumori in radio. Ehi. Che succede? Ancora qui. Ma, 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 ma aspetta, ma aspetta! Non è... Perché c'è una foto di un water pieno di diarrea! Cara, ho la torcia! Non preoccuparti! Dove devo andare adesso per sistemare sta boiata? Perché si è spenta la luce? È perché ho un impellente bisogno di cagare! Vabbè, che a volte mi basta guardare in faccia mia moglie. Scusa, stavo scherzando, cara. Dai! Ma è un mostro! Non è un attacco... C'è un mostro nel cesso! Devo andare... Devo andare in... Ti giuro, mi son cagato addosso! Per stare nell'argomento! Io non mento mai! Maledetto! Vuoi farmi? Vuoi farmi? Venire un attacco? Di diarrea? Mi serve una leva? E dove la trovo? C'era qui, dai! Ho trovata! Era qui! Dai! Trovato! A posto, vero? No, hanno detto di non prendere la chiamata! Ma io sono basti al contrario, dai! La prendo! Aia! Non dovevo! Oh, ah, sì! Ah, Sara! No, il mostro di Melma! Ti ha... Ti ha errato! E' stata errata, mia moglie! E' stata buttata... E' stata... Flusciata! Come si dice in inglese? Come si dice quando... E' stata tirata! E' stato cliccato il pulsante! Devo trovare qualcosa per spaccare la porta! Il telecomando Nokia! Qualcosa! Un Nokia! Dov'è un Nokia? Quando serve? Perché ho cambiato cellulare per uno stupid iPhone quando quel mattone è più utile! Devo trovare qualcosa! Puzzola a questo gioco! Ah, ok! Ho trovato un libro! E il libro, secondo me... Va! E il libro, secondo me, va qui! Un passaggio segreto! In casa mia! Ma chi l'ha messo? Ma attacchione... Ma attacchione il... Architetto, ecco! L'architetto! Ok! Dammi qua! E vai! Piedi di porco, Gordon Freeman! Bam! Sono entrato nel mio... No! Sara! Sara, perché? Oh no! Oh no! Oh no! Perché? Ti sei in un cesso! Ti sei in un cesso! E il cesso volante mi ha ammazzato! Fla fine! Dai! Però che cagata di gioco! Fatemelo dire! No, no, no! Adesso non rispondo! Ok! Spento! Così! No! Tesoro! Good game! Che vuol dire? C'è una differenza! Oh, Natan! È bello non... Non vedo niente! Mi sa che mi... Natan, wake up! You shit your pants! Yeah, yeah! Give me a moment! Ma! 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 What? Ma! Ah! Well, è accaduto a me di nuovo! Ma! Ma questa è cacca! A me sembra un'altra cosa! È marmellata! Devo tornare al bagno a pulirmi? Ecco! Va bene! Va bene! È un loop! È un loop! È un loop di me! Avete presente le back rooms? Toilet rooms! Un'altra bellissima cagata di gioco! Che non vedevo l'ora di provare insieme a voi! È un due giochi a caso di melma! Potremmo chiamarlo questo! Ok! Ok! Bene così! Bene così! Accendi tutto! Fatti vedere! Dov'è il mostro cesso? Ho intasato già tutti i water! Devo cercarne degli altri! Aia! Mi sono aperto la porta in faccia! Per praticamente avevo mangiato un bitcoin! E purtroppo l'ho cagato! Devo ritrovarlo! Questi suoni! Questi odori! Ma! Ma! Ragazzi! Mi sto perdendo! No! Però! No ragazzi! Che c'ho... Devo trovare la via giusta! Io mi perdo qua! In mezzo ai cessi! Non è che dopo trovo qualcuno qua in mezzo? È tutto un water! È tutto un Gabby! Un gabinetto! Un gabinetto! È un gabinetto! Andiamo avanti! Non aprirò più portiere di cessi per due anni! Basta! 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 Mi avete stancato! Siete monotoli! C'è qualcuno che sta mollando qualcosa qui? E non so se è una bugia o una cagata! Oh! C'è un barbone! Nei cessi! E c'è anche un'anatrella! Ma che ci fa qui? Dai, dai! Dobbiamo resistere! Fratelli di stitichezza! È da tanto tempo che non incontro persone qui! Che razza di posto è questo? Non lo so esattamente! Ma è un corridoio pieno di cessi! È una delle stanze! È una stanza tipo 245 delle backrooms! Chi sei? Proprio come te! Una persona che si è incastrata qui! Da quanto sei qui? Non so nemmeno quando arriva la mattina e la notte! Cavolo! Non ho un orologio! Non te lo posso dire! Dove hai trovato la papera? Ho trovato la papera! Attaccata ad una tuovatura! Stava cercando gli insetti! Mi li ha portati! Grande! Cominciamo di qui! Non ne ho idea! Ad essere onesti! Neanche ci provo! Ti mangerai la papera per sopravvivere! Ho sentito dei brutti rumori! Non lontano da qui! Ho paura di andare via dal mio rifugio! Siamo nella me**a! Ma se la mia papera troverà una chiave! Possiamo utilizzarla! Ecco, prendila! Cos'è? Cos'è il richiamo di papera? È il fischietto? Brava! Brava tu! Una chiave! Ha trovato una chiave la papera! Ho trovato una porta con la chiave! Dai, che fuori da sto posto! Fuori da sto cesso! Daglie! Io un accendino! E il mio pancino! Che è pieno di una sostanza... Color marroncino! Cantare! Questo cesso! Oh! Oh, mi spi... Dimmi! Dimmi, signor cesso! Ok! Dimmi come fare! Vuoi che intisirisco la sostanza... Oh, poverino! Ma chi è stato? Sarà stato il protagonista del gioco di prima? Ok! Ok, signor... Ragazzi, se non vi facessi questi video... E poi vi direi... Ho parlato con un cesso parlante! Voi non mi credereste! Ma avete le prove! Un cesso parlante mi ha parlato! E mi ha detto che devo trovare... Una cacchio... Un coso... Un plumbi! Oh! 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 Un uomo cesso! Un uomo cesso! Tutto ma non l'uomo cesso! Batte! E niente! Sono stato scaricato! Me ne vado! Devo tagliare per di qua! Scappiamo dall'uomo cesso! Che brutto! È brutto forte! Non sa più dove andare! Sta andando a caso ma è vicino! Mi vuole sciacquare! Non voglio finire il suo sciacquone! Spaventato da un gabinetto! Check! Credo che l'ho seminato! Credo che l'ho seminato! Sì! Sciom! Sciom! Ho trovato l'arma per sconfiggere i cessi! Coloro che lo temono! Lo temeva! Lo temeva lo... Mi sta seguendo? Mi sta seguendo! Wah! Wario... Waluigi... No, 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 scendi No, no No No, no, please Ah, è vicino Mamma mia, posso mollare uno sconeggio per andare più veloce Per avere una propulsione Ti prego Ma mollo una cagata pazzesca Oh, ce l'ho fatta Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Ce l'ho fatta, si è intasato Si è intasato il figlio di brava donna L'abbiamo messo nel saccoccio Mamma mia, gli cagherò in faccia La prossima volta che lo vedo Ma per lui ormai è una cosa quotidiana Questa Ehi, paperello c'è il solello Dai, ti do una mano Dai Oh Mamma mia, voi non sapete la liberazione È stato un piacere È un piacere Che cesso buono Non come l'altro cesso cattivo E chi è il tuo amico? La paperella? Ok, praticamente mi salva Oh Praticamente Che cos'è questa roba? Ehm Aia Un tubo mi ha appena Mangiato Un tubo di scarico Sto venendo tirato giù Le tubature più ricondite Dove è finita Ecco Non dico cosa ci è finito Ma ci è finito tanta roba Tanta roba Che non volevo vedere Cioè, vi rendete conto Dove sono caduto? Vi rendete conto Che sostanza è quella Che sto calpestando? Non vi rendete conto Però dai Devo sfuggire Siamo nel cuore Nel cuore pulsante di melma E va bene così Tanto ci siamo abituati noi Nei nostri giochi A stare nella melma putrida Nel fango Lezzo proprio questo posto Putridro fancoso Ceppo di piscio Tubatore di legno Ma dove sto andando? Ma di cosa mi sto sporcando? Oh Cosa c'è? Eh Ah, ciao Ah, guarda Ormai ci sono abituato Sì Sì Bene Sì Perché sono finito in un cesso Allora, per cosa ho giocato? E quindi posso andarmene? Grazie a te Dove solo trovare il signor doccia Ma dai Che buono Ah Una doccia fresca Per risvegliarmi Pulirmi da tutta la cacca Di cui ero incrostato Oh Mi ha soffocato Mi ha soffocato Oh no E mi sono svegliato in vasca da bagno Mi ero addormentato in vasca da bagno Come uno sce E qualcuno è venuto con me Quindi era tutto vero La papera gialla torturatrice Bello dai Comunque carino Carino Non c'è male Per un gioco di me Per il resto dai Oggi vi ho trovato dei giochi di qualità Sono contento Sempre giochi originali Nel canale di Gabby Come li trovi? Come li trovi? Basta guardare nel cesso Li trovi sti giochi Grazie per la visione Credo che finalmente L'outro che stavo facendo in questi giorni Sia appropriata per questi giochi Quindi lasciatemela fare Ancora una volta And one And two And three Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi